Rifiuti abbandonati in una cava e successo a Duscio, tre imprenditori nei guai, il materiale proveniva da un cantiere che Enel aveva appaltato ad un'azienda edile di Acquiterme. Si finge finanziere denunciato, un uomo è stato rintracciato dopo essere scappato da un hotel dai carabinieri di Rapallo. Furto di orologi e contanti, i ladri sono entrati in un'abitazione di Corso Genova Lavagna, il bottino ammonta 600 euro. Segnaletica pre-allerta, il comune di Santa Margherita Liguri ha posizionato i nuovi semafori in zone strategiche della città. Il migliore olio torna al concorso della cooperativa Livicoltori Sestresi, la premiazione il prossimo mese di maggio. Davide Del Nero al Golfo Paradiso, ex tecnico di Virtus Entella, Chiavari Caperana e Rapallo è stato chiamato per salvare la squadra dalla retrocessione in prima categoria. Buonasera ai telespettatori del TGT Guglio, dunque in primo piano c'è la cronaca, come avete sentito anche dai nostri titoli, ed incominciamo parlando dell'abbandono di rifiuti che è avvenuto in una cava nel territorio di Uscio e tre imprenditori sono finiti nei guai. Sentiamo i dettagli. Abbandonavano rifiuti in una cava senza alcun riguardo per l'ambiente. Lo hanno scoperto il Corpo Forestale dello Stato e la Guardia di Finanza di Genova, che ieri hanno effettuato perquisizioni e sequestri ai danni di due aziende dalla Val Fontana Buona e di una di Acquiterme. Nei primi giorni di febbraio era stato individuato una cava in dimensione nel territorio di Uscio, presso cui venivano trasportati carichi di terra senza alcuna autorizzazione. Il materiale proveniva da un cantiere che l'Enel aveva appaltato ad un'impresa edile di Acquiterme. Questo aveva conferito senza alcuna autorizzazione i rifiuti di scavo presso la cava, la cui azienda titolare ha sede a Cicagna. Quel giorno la Forestale aveva sequestrato il sito e i due camion utilizzati per i trasporti. Dai primi accertamenti era inoltre emesso il possibile coinvolgimento, in qualità di mediatore, di una terza figura imprenditoriale con sede aziendale a Correglia Ligole, che avrebbe permesso alla ditta produttrice dei rifiuti di accedere all'area di cava proprietà dell'impresa estrattiva. La Procura pertanto ha disposto alle perquisizioni presso tutte le sede aziendali interessate. Sono così stati sequestrati documenti e materiale informatico, ora al vaglio della magistratura. Un cinquantenne è residente a Correglia Ligole, un 79enne è residente ad Acquiterme, un 87enne è residente a Tribogna. Titolari delle imprese sono indagati per l'illecita gestione di rifiuti e di scarica abusiva, mentre ad un 49enne e un 54enne autisti trasportatori è stato contestato il reato di illecita gestione dei rifiuti. Nel corso della mattinata a Rapallo, invece, i carabinieri a conclusione di accertamenti hanno denunciato per usurpazione di titoli e doneri e per tentata truffa un cittadino di origini campane, 39enne, che ieri sera all'interno dell'hotel Miramare, spacciandosi per appartenente alla Guardia di Finanza, aveva chiesto del denaro al personale addetto per l'acquisto di marche da bollo finalizzate all'espletamento delle pratiche del furto subito da alcuni ospiti della struttura. Non ricevendo alcun credito è scappato, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari. Ed i carabinieri di Chiavari hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni del posto su ordine di esecuzione per espiazione di una pena emessa dal Tribunale di Genova. L'uomo deve scontare sei mesi di detenzione domiciliare per guida in stato di ebbrezza alcolica. Invece una donna di 37 anni ha denunciato ai carabinieri che i gnoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso una volta penetrati all'interno dell'abitazione in Corso Genova a Lavagna, hanno rubato alcuni orologi e denaro contante per un valore di circa 600 euro. Indagini sono in corso da parte dei militari. Ed invece, dopo la denuncia asporta da un 36enne di Lavagna, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un quarantenne con precedenti di polizia, poiché nei suoi confronti sono stati raccolti indizi di colpevolezza circa il furto avvenuto all'interno del circolo Endas di Casarza Ligure. E ancora cronaca perché un pensionato di Chiavari è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzati dai carabinieri, poiché è stato sorpreso a Moneglia alla guida di un furgone di proprietà del figlio, mentre trasportava rifiuti ferrosi senza autorizzazione e senza essere iscritto all'albo dei gestori ambientali. Materiale e mezzo sono stati sequestrati. Ed ora voltiamo pagina. Parliamo del maltempo, all'arta meteo, Santa Margherita Ligure potenzia la segnaletica per avvisare in caso di emergenza per il forte maltempo tutta la popolazione. Sentiamo. Miglioramento e implementazione della comunicazione relativa all'allarta meteo vanno in questa direzione gli ultimi interventi sul territorio di Santa Margherita Ligure. Il Comune posiziona di fatti nuovi semafori luminosi e segnaletica verticale. I semafori, sai in tutto, vanno ad aggiungersi ai cartelli già installati e segnalano i tre livelli di allerta, giallo, arancione e rosso. I dispositivi hanno sostituito i vecchi impianti a due allerte nei punti preesistenti, in Piazza San Siro, Piazza Mazzini, Piazza Caprera, a Corte, a San Lorenzo con l'aggiunta di Nozzarego. Inoltre, nelle vie 25 Aprile Madonnetta, zone a rischio in caso di eventi meteorilevanti e per questo, specificatamente citate nei provvedimenti sindacali inerenti al maltempo, sono stati posizionati dei cartelli che ricordano il divieto di sosta e fermata in caso di allarta arancione o rossa. Prosegue il potenziamento dell'informazione alla cittadinanza a seguito delle nuove normative regionali in tema di allarta meteo, spiega il vice sindaco con delega alla protezione civile Emanuele Cozio, disposizioni che Santa Margherita Ligure ha fin da subito recepito e attuato. Il costo complessivo dell'intervento è di circa 9.000 euro. E oggi invece a Sestri Levante si è svolto un incontro richiesto dal Movimento 5 Stelle con la presenza dell'assessore ai lavori pubblici Giorgio Calabro presso le gallerie di Santa Anna con i tecnici di reti ferroviarie italiane per chiedere il ripristino della recinzione metallica che delimita la ferrovia. Ha preso lo stato di degrado e la pericolosità, l'ente si è impegnato ad intervenire quanto prima per la sostituzione della recinzione. Attendiamo risposta scritta da parte delle ferrovie per sapere ufficialmente il tipo di lavoro che verrà effettuato e le tempistiche che saranno presumibilmente entro l'estate per quanto riguarda la sostituzione, mentre interverranno tempestivamente per tamponare la situazione di pericolo dovuta al possibile distacco della recinzione, dice Martino Tassano. Una piccola opera che restituirà un po' di decoro e sicurezza all'ingresso della nostra cittadina. E ora invece parliamo di una nuova iniziativa della PD di Chiavari. 900 questionari anonimi in distribuzione dalla settimana prossima tra i negozi, dal centro a tutte le periferie per fotografare la realtà del settore economico storico della città vediale. Nuova iniziativa del Partito Democratico di Chiavari che tende a coinvolgere i commercianti attraverso un questionario, un questionario che verrà compilato dai commercianti in maniera anonima, verranno distribuiti dalla prossima settimana circa poco più di 900 questionari. Innanzitutto perché questa iniziativa e cosa chiedete ai commercianti chiavaresi? I perché dell'iniziativa sono fondamentalmente due. Il primo è costituito dalla volontà che noi abbiamo come circolo del PD di Chiavari di conoscere sempre meglio, sempre più nello specifico, la realtà chiavaresi. Ebbene, nel fare questo pensiamo anche che ci sia una funzione sociale. È giusto che Chiavari si conosca, non solo che la conosciamo noi. La seconda premessa è legata invece ad un dato storico, ma un dato anche che guarda al futuro, ovvero i commercianti chiavaresi. Il commercio chiavaresi ha costituito in questi anni di crisi uno dei pochi assi propulsivi dinamici della realtà imprenditoriale chiavaresi. Ovviamente il rilievo storico del commercio chiavaresi non sfugge a nessuno. Noi abbiamo fatto 21 domande, faremo 21 domande ai commercianti chiavaresi che sono proprio tese a restituire un'immagine forte della città di Chiavari e della sua rete commerciale. Chiaramente ci sono due finalità retrostanti. La prima è quella di comprendere l'efficienza della rete distributiva. La seconda è quella di mettere bene in luce, di far comprendere a tutti come il centro commerciale naturale costituito dal centro della città abbia carte per competere efficacemente con i centri commerciali artificiali, i famosi ipermercati, eccetera, eccetera. Noi vogliamo mettere in luce proprio le caratteristiche forti del commercio chiavaresi e anche dare indicazioni su come possa essere valorizzata ulteriormente questa capacità che i commercianti hanno già mostrato. Non c'è un ultimo appello alle recommercianti chiavaresi? Sì, assolutamente sì. Il nostro questionario non ha alcun fine diverso da quelli che ho messo in luce. Non ci sono volontà di accertamento fiscale e cose di questo tipo. Chiediamo a tutti di collaborare. Perché? Perché questo garantirà un pochino di più tutti. Voltiamo a pagina. Il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio metropolitano di Genova convocato dal sindaco Marco Doria per domani alle 15.30 è la convenzione fra la città metropolitana e la regione Liguria sull'utilizzo per le funzioni di vigilanza avvenatoria e sulla pesca di una parte del personale della Polizia Provinciale. Nella stessa seduta il Consiglio voterà lo schema di convenzione per disciplinare modalità e tempistiche del trasferimento dai comuni del territorio alla città metropolitana del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, igiene e protezione dell'ambiente e l'aggiornamento sul sistema integrato dei controlli interni dell'ente. Seguirà l'interrogazione con risposta del Consigliere Delegato all'Ambiente Enrico Pignone sui problemi della rete fognaria nel bacino idrico dei comuni di Avegno, Uscio Erecco, presentata dal Consigliere Franco Senarega. Adesso invece andiamo a Sestri Levante, al Via Liter per la valorizzazione e conservazione delle botteghe storiche della città dei Due Mari. Vediamo. Firmato oggi in comune a Sestri Levante il protocollo d'intesa che porterà al riconoscimento delle botteghe storiche e dei locali di tradizione della città. Insieme all'amministrazione, il segretariato regionale del Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo, della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archivistica, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Genova, Associazioni di Categoria. Entro il mese di marzo il comune pubblicherà l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Le domande, presentate attraverso un specifico modulo, dovranno essere consegnate alle rispettive associazioni di categoria che provvederanno a trasmetterle agli altri enti. Lavoriamo sulla valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e della sua storia, ha detto il sindaco Valentina Ghio. L'idea si è sviluppata sulla base della considerazione che gli esercizi commerciali tradizionali rappresentano, per le testimonianze, gli arredi e ricordi che conservano una parte imprescindibile del patrimonio culturale e commerciale della città e un capitale sociale di relazioni umane, di custodia, tradizioni, presidio del territorio. È inoltre innegabile il valore turistico che deriva da questo stesso patrimonio. Aggiunge l'assessore alle attività economiche, Enrico Pozzo, è un progetto in cui crediamo fermamente sia dal punto di vista della tutela del nostro patrimonio storico, sia per la valorizzazione in chiave turistica. Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Roberto Bagnasco, dopo la recente approvazione del piano casa, fa il punto sulla modifica alla legge regionale. Dice che questo piano va incontro in modo veramente efficace alle esigenze di un'urbanistica moderna, che punta alla riqualificazione, rigenerazione urbana e messa in sicurezza del territorio. La nuova amministrazione di centro-destra dà una chiara risposta e uno strumento concreto per agevolare gli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio edilizio esistente. Ha dato voce alle pressanti richieste dei comuni, ingabbiati da troppo tempo, da regole asfittiche e da una burocrazia opprimente. Le categorie professionali ed economiche che operano nel settore ora possono guardare con rinnovata speranza e fondato ottimismo ad una ripresa economica e professionale, conclude il suo intervento il coordinatore provinciale. Adesso invece ci occupiamo ancora del convegno che è stato promosso di recente a Chiavari da Banca Carigia. Un ruolo importante è stato anche quello di Lega Consumatori Liguria. Sentiamo perché nel servizio. La banca è il cliente di fronte alle nuove norme tra rischi e risparmi. Di questo si è parlato all'auditorium di Chiavari nell'ambito di una serie di appuntamenti con la popolazione promossi dalla Banca Carigia. Prezioso anche il sostegno delle associazioni come la Lega Consumatori Liguria che ha illustrato gli obiettivi verso la cittadinanza. Gli obiettivi per i consumatori di questo incontro sono evidentemente ottenere un'informativa chiara e semplice in merito alla nuova normativa bancaria che è entrata in vigore da gennaio 2016. La nostra associazione è a disposizione per fornire chiarimenti e spiegare quali sono le tutele dei consumatori. Tanti sono gli aspetti critici anche di questa normativa che verranno affrontati man mano che la normativa nuova verrà in utilizzo. Ecco quali sono gli strumenti che possono tornare utili ai consumatori in questo percorso. La nostra associazione punta a protocolli d'intesa al fine di evitare eventualmente in caso di contestazione una controversia giudiziaria ed ecco che lo strumento più adeguato quando vi è un reclamo, una segnalazione o comunque bisogna richiedere documentazione alla banca è la conciliazione paritetica. Mettere sullo stesso piano un rappresentante del cittadino, un rappresentante della banca al fine di trovare una soluzione e normalmente diversamente da quella che è la mediazione o da quelle che sono invece i sistemi di arbitrato si trova una soluzione veloce, soddisfacente per le parti e con costi limitati. Chi volesse avere maggiori dettagli ed acquisire altre informazioni ha un punto di riferimento. Siamo presenti come Lega Consumatore Liguria in tutte le province Liguri, quindi Genova, La Spezia, Imperi e Savona e lo sportello di Chiavari presente all'interno delle ACLI. Riprendiamo da Rapallo, da dove arrivano dal sindaco Carlo Bagnasco chiarimenti circa la notizia di questi ultimi giorni sull'arrivo di migranti in Via Rizzo. Dice il primo cittadino ad oggi il comune di Rapallo non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della prefettura circa l'arrivo di migranti in un complesso di Via Rizzo, la stessa proprietà degli appartamenti non ha confermato nulla a riguardo. E torniamo anche su ATP, perché interviene l'USB, l'unione sindacale di base, in maniera critica dicono gli esponenti vane parole e vuote promesse in merito all'accordo, nessuna certezza sulle risorse, nessuna garanzia sul futuro. Ma l'aspetto decisamente più grave è la totale mancanza di garanzie per il proseguo del servizio e l'assenza e disinteresse dimostrato per ogni misura di tipo strutturale. Un vuoto che però non ci sorprende, visto che chi ha firmato l'accordo è interessato solo a portare l'azienda alla scadenza del 2017, dice ancora l'USB, e consegnare poi il servizio ai privati tramite gara d'appalto. Voltiamo ancora a pagina, torna il concorso per il miglior olio promosso dalla cooperativa olivicoltori Sestresi. La premiazione è il prossimo mese di maggio. Vediamo. La cooperativa olivicoltori Sestresi lancia di nuovo il concorso per il miglior olio, sono già arrivate molte adesioni e dunque state lavorando su quello che c'è. Intanto come è nata dal punto di vista della qualità? È stata buona stavolta? Sì, dopo lo stop dell'anno scorso perché per mancanza proprio di prodotto, di materia prima, quest'anno ritorniamo a fare la seconda edizione del premio miglior olio per quanto riguarda i produttori di olio extravergine del Tigulio, dell'entroterra, dell'Evante Ligure. Quanti sono stati partecipanti? Sì, per il momento abbiamo iscritti 40 partecipanti al premio e abbiamo già cominciato a fare le analisi chimiche e organoletiche con il nostro gruppo di assaggio dei primi 15 campioni. e pensiamo di finire le analisi entro il mese di marzo, massimo primi di aprile e fare la premiazione nell'assemblea dei soci che si fa a maggio. La cooperativa, l'associazione e la camera di commercio, tutti insieme per dare di nuovo il via a questo importante progetto su una delle peculiarità che è poi l'olio del comprensorio, il ruolo proprio del panel, qual è? La camera di commercio è duplice. Uno è la promozione dell'olio di qualità nell'intento di aumentare anche la quantità di olio a denominazione di origine protetta. Il secondo è quello del panel, è quello di certificare e di garantire che attraverso un metodo della comunità economica europea, il 25-68 regolamento, si attuino tutte le procedure per un assaggio corretto e dall'assaggio corretto dovrebbe venire anche una graduatoria corretta. Per adesso come sta andando? Possiamo svelare qualcosa? Sta andando bene, nel senso che questa campagna denota una qualità buona, mediamente buona, dovuta forse sicuramente alla salubrità dei frutti e a un periodo di raccolta abbastanza lungo dove finalmente non ci sono stati grossi problemi meteorologici. Siamo arrivati allo sport, incominciamo con la notizia che è stata depositata a Bruxelles ad opera dei rispettivi sindaci, la candidatura della delegazione composta da Chiavari, Leivi, Cogorno a Comunità Europea dello Sport 2017. Entro l'estate arriveranno i commissari europei incaricati per esaminare gli impianti sportivi, conoscere e valutare il ricco tessuto di società sportive presenti a Chiavari, che insieme a Cogorno e Leivi rappresenta un centro di riferimento importante per lo sport, dalla squadra di calcio, la Virtus Entella in Serie B, alle oltre 60 società sportive, alcune delle quali storiche e blasonate, come la Pro Chiavari, la Chiavari Nuoto, la società ciclistica Sport Club Aurora e la Chiavari Scherma. Dichiara Levaggi, siamo convinti di avere tutte le carte in regola per ottenere l'ambito titolo. Aggiunto il sindaco Centanaro, si tratta di una grande opportunità, Leivi, oltre ad un'ottima struttura polisportiva, ospita un importante campo di calcio, dove si svolgono gli allenamenti delle squadre giovanili dell'Entella. Prosegue il sindaco Sommariva, tutta la Liguria è una palestra a cielo aperto. A Cogorno abbiamo il villaggio del ragazzo, realtà polisportiva importante, che si rivolge a tutti, anche diversamente abili, e svolge quindi una grande funzione, non solo sportiva, ma anche sociale. E ora parliamo di atletica e andiamo a Lavagna, perché è domenica, condizioni meteo permettendo, c'è un appuntamento importante con il Marina Trail. Vediamo. Domenica 28 febbraio, a partire dalle 9.30, tempo permettendo, si svolgerà la Marina Trail, edizione numero 1, di 21 km, con partenza da Lavagna, ma che interesserà altri comuni del Tiguglio. Di cosa si tratta? Si tratta di una gara di tre rani, quindi tre su sentieri e in montagna. Partiamo dal Marina Sporting nel porto di Lavagna, percorriamo il centro storico di Lavagna, saliamo al San Giacomo per andare al Capenardo, poi torniamo sulle alture di Sant'Anna, scendiamo a Caviborgo e risaliamo a Santa Giulia per ritornare al Marina Sporting. 21 km di percorso, 1100 metri di dislivello, abbiamo tra gli atleti più forti in Italia, abbiamo Marco De Gaspari, sei volte campione del mondo, nonché recordman di salita sul Monte Bianco, abbiamo Alexa, una delle ragazze più forti qua in zona, che è arrivata seconda nella gara del deserto della Namibia e altri nomi importanti, tipo Paolo Bert, che ha vinto la nostra edizione Zero dell'anno scorso. C'è da ringraziare diversi enti, diversi sponsor per questa manifestazione? Assolutamente sì, ci sarà un'associazione benefica che è la Tiguglio for Friends, contro per la lotta alla SLA, che parteciperà alla manifestazione, ci saranno due gare per i bambini, ci sarà una camminata di 14 km non competitiva, tutto questo è stato reso possibile dal Comune di Lavagna e approfittiamo per ringraziare l'assessore allo sport Danilo Bersaglio e da numerosi sponsor sia del Comune di Lavagna che di Chiavari, che sono oltre 35, quindi approfittiamo per ringraziare chi ci ha aiutato e chi ha creduto in noi. Lo sport è un volano appunto per il turismo, perché sono previste diverse persone non solo a partecipare a questa manifestazione, ma anche persone che accompagnano queste persone a questo evento sportivo. Verissimo, infatti noi insieme alla Marina Sporting abbiamo sviluppato questa sinergia che porta a questa competizione molto bella, competitiva, ma anche allo sviluppo del turismo invernale, infatti quest'anno contiamo di avere circa 250 partecipanti e quindi vuol dire un'affluenza di persone che arrivano anche da fuori provincia, in modo tale che Lavagna sia presente sul territorio anche in mesi meno portati a questo. E veniamo al calcio, sconfitta a tavolino 3 a 0, multa alla società di 200 euro, squalifica per due anni ad un giocatore e quattro giornate di squalifica per altri cinque giocatori. È la decisione del giudice sportivo, dopo aver letto il refarto dell'arbitro Emilio Del Santo della sezione di La Spezia, al termine della gara valida per il campionato di seconda categoria tra Atletico Casarza e Borgo Rapallo di sabato scorso e sospesa all'ottottottesimo sul risultato di 1 a 1. Lorenzo Vigne non potrà calcare i campi di calcio fino al prossimo 31 maggio. Andrea Lavaggi, Stefano Lavagnino, Alessandro Malatto, Giovanni Montella, Andrea Mors qualificati per quattro partite, una vera stangata. Ed il Golfo Paradiso ha scelto il successore di Mario Giordano, in panchina arriva Davide Del Nero, ex Virtus Entella, Chiavari Caperana e Rapallo. Vediamo. Davide Del Nero è il nuovo allenatore del Golfo Paradiso, squadra che milita in promozione. Il tecnico originario di Carrara, che ha superato la concorrenza dell'ex Riva Samba Luca Cavallo, sarà affiancato nel suo primo allenamento di stasera dal suo vice Davide Vignolo. Del Nero, ex allenatore di Virtus Entella, Chiavari Caperana e Rapallo, prende il posto di Mario Giordano, a cui è stata fatale la sconfitta di domenica scorsa in casa contro l'amicizia ragazzo per 3 a 1. A otto giornate dalla fine, la scelta della società, nata quest'anno dall'unione di Prorecco e Camogliavegno, è caduta su un allenatore di spessore per conquistare la salvezza. Il Golfo Paradiso, infatti, occupa l'ultima posizione in classifica con 17 punti. Renzo Musante non è più l'allenatore della ciasetta. La sconfitta di ieri sera contro il Borgo Rapallo nel recupero di seconda categoria è risultata fatale al tecnico. Al suo posto arriva Mirko Garbarino, ex allenatore lavagnese, che negli ultimi anni ha vissuto e allenato all'estero, dove si trovava per questioni personali. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Grazie per essere rimasti con noi anche questa sera. Io vi lascio al mezzo, alla rubrica di rito e rovescio a cura dell'avvocato Fabio Broglia. Poi, come sempre, vi ricordo che potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20.20 sul canale 117 Tiguglio TV. Trovate le notizie sul sito www.antellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter e trovate il TGT Guglio anche sul canale YouTube. La nuova edizione è domani alle 12.45. Una buona serata. Benvenuti al meteo. Ecco le previsioni per domani, venerdì 26 febbraio. In mattinata nuvolosità diffusa sul Levante, locali schiarite a Ponente, più ampie sull'Imperiese. Progressivo aumento della nuvolosità su tutta la regione, con cielo in prevalenza coperto nel pomeriggio. Possibili locali precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio. 20 sul centro Ponente, in prevalenza settentrionali, moderati con locali rinforzi fino a forti, moderati da est o nord-est a Levante. Le temperature previste, sulla costa 7 la minima, 13 la massima, nell'interno 5 la minima, 11 la massima. Mare in aumento da Ponente fino a Mosso, localmente molto mosso nel pomeriggio. Grazie a tutti.